Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Siamo sulla versione global di Dissidia Final Fantasy over Omnia perché, come potete vedere, vi sto facendo vedere il mio pull indifferita per quanto riguarda il banner di Rem e Macchina. Un banner sul quale in realtà non avrei voluto pullare adesso, però, data la mia condizione con tanti personaggi deboli e la necessità di avere personaggi anche per poter fare l'Efeod mi hanno obbligato, tra virgolette, a pullare. Cercavo Rem, il mio obiettivo principale è stato Rem in questo pull che ho voluto fare così coraggiosamente proprio perché Macchina, a questo punto, conoscendo comunque il suo sviluppo, preferisco pullarlo successivamente con LD. Quindi, poi innanzitutto avviene già il primo miracolo perché ottengo subito la ex di Rem in meno di 10 ticket. Ho cominciato che ne avevo 45, adesso ne avevo, nel momento in cui poi ricomincio, ne avevo circa 37, quant'è che ne avevo? Quindi già il mio obiettivo praticamente lo avevo trovato. Solo che mi ero scordato del fatto che io non avessi praticamente la 15 e la 35 perché non era il mio profilo giapponese. Quindi la mia situazione era abbastanza complessa. E così continuo e decido di pullare comunque tutti i ticket visto che comunque poi gli altri li avrei potuti riottenere appunto dall'evento stesso. Macchina, come vi stavo dicendo prima, non lo volevo perché preferisco pullarlo successivamente con la sua LD dato che diventa veramente veramente interessante e invece mi sono concentrato di più sul trovare Rem. Rem, essendo comunque una curatrice ed avendo una meccanica anche piuttosto particolare mi sarebbe stata sicuramente più utile di macchina per quanto riguarda Feod e in generale. E quindi ho sempre sperato di prendere Rem. Rem l'ho presa subito. Poi qua mi sono scordato addirittura che esistono ancora le off-banner nei pull ovviamente della versione global perché non è più come la versione Jap dove non esistono più off-banner. Quindi mi era un attimo illuso di poter trovare magari 15 o 35 di Rem e invece mi è capitata una bella 15 di Sian così sbattuta in faccia. Per quanto riguarda il resto non ho molto da dire perché i personaggi ormai li conosciamo ormai per chi magari mi segue per la versione giapponese sa benissimo come ho parlato di alcuni personaggi e sa soprattutto che macchina in questo momento io non l'ho consigliato. Nonostante sia un personaggio che a me comunque piaccia parecchio mi sono sentito in dovere di non consigliarlo al momento perché è abbastanza macchinoso sembra quasi un gioco di parole per il suo nome ma è così non dà un apporto così eccezionale perché il suo counter seppur utile perché è utile viene sfruttato soltanto per quanto riguarda i danni Brave qua nel frattempo trovo già la 15 di Rem quindi va benissimo e mi manca adesso solo la 35 e quindi vi stavo dicendo che macchina comunque sfrutta il suo counter solo per gli attacchi Brave è buono l'attacco HP+, perché permette di avere i free turn che sono comunque una cosa che non disdegniamo mai ma meglio fare danni anziché caricarsi soltanto il bravery e lui comunque col counter prende soltanto bravery quindi non ha tutta questa utilità mentre invece con l'LD poi avete visto anche dai miei video come effettivamente si è cambiato per cui consiglio se appunto avete intenzione di pullare su questo banner pullate solo ed esclusivamente per Rem Rem è decisamente più utile cura, swappa i turni permette una manipolazione efficace e continua soprattutto specialmente adesso che con X Plus guadagni il free turn dopo la X guadagni il free turn anzi guadagni la free skill scusatemi quindi potete sfruttare appieno il suo swap di turni qua sto facendo delle multi perché comunque queste gemme sono quelle che ho risparmiato da Artemisia quindi ho deciso di investirle per trovare comunque la 35 di Rem visto che ormai avevo trovato la 15 avevo trovato la X ho detto voglio trovare il pacchetto completo per riuscire comunque ad avere un personaggio completo avere un personaggio funzionante da poter utilizzare subito e quindi mi sono deciso e ho detto va bene utilizziamo queste gemme tanto sono quelle che non ho utilizzato per Artemisia e tra l'altro ricordatevi che queste sono gemme che io accumulo solo tramite eventi e login quindi non sono gemme che sono state farmate da Lost Chapter o addirittura storia quindi diciamo che io ho il gioco completamente vergine questa è una cosa molto importante che voglio sottolineare qua comunque trovo un'altra 15 di Rem che mi va benissimo e qui se non sbaglio vado giù con l'ultima multi che mi permette comunque di ottenere tutto ciò che mi serve per cui io vi ringrazio al solito per essere stati con me fatemi sapere cosa ne pensate voi di questo banner chi avete trovato e cosa stavate cercando fatemelo sapere e vi invito tra l'altro stasera su Twitch che c'è un grandissimo appuntamento quindi grazie ancora e alla prossima grazie a tutti